Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di monete di valore. Bene ragazzi, in questo video vediamo come è fatta e quanto vale la classica moneta da 200 lire. Prima di iniziare però ricorda di cliccare un bel mi piace e di iscriverti al mio canale per non perdere i prossimi video. La moneta da 200 lire in versione classica è fatta di Bronzital, ha un diametro di 24 mm e pesa 5 grammi. Questa moneta è stata coniata dal 1977 fino al 2001. Per quello che riguarda la faccia principale dove è presente il valore nominale a 200 lire troviamo il disegno di una ruota dentata. Troviamo poi la piccola lettera R che ci fa ricordare che questa moneta è stata coniata dalla Zecca di Roma e poi troviamo l'anno di coniazione, nel mio caso 1998. Ruotiamo la nostra moneta, le vecchie lire si ruotano dal basso verso l'alto quindi la ruotiamo in questa maniera e qui troviamo quello che è la testa muliebre rivolta verso il lato destro. Nel giro troviamo la scritta Repubblica Italiana e poi nella parte più bassa sotto il puntino troviamo M. Vallucci che è la firma dell'autore di questa moneta ovvero Mario Vallucci. Passiamo ora a quello che è il valore di questa moneta. Devi sapere che il valore della moneta dipende sia dallo stato di conservazione della moneta, cioè se è rovinata vale poco o addirittura nulla, se è messa bene, se è perfetta può valere qualcosa. In questo caso la moneta perfetta viene chiamata moneta Fior di Conio, proprio per far capire alle persone che si tratta di una moneta perfetta come se fosse appena stata coniata dalla Zecca. Quindi ricorda la sigla FDC sta per Fior di Conio e indica le monete perfette sono quelle che hanno maggiori quotazioni di mercato. Dato che le monete sono state coniate per diversi anni, per ogni anno ci sono delle tirature differenti, o meglio per diversi anni sono state coniate le monete da 200 lire e per ciascuno di questi anni la Zecca ha coniato un determinato numero di monete. Quindi troviamo delle monete che in alcuni anni sono state coniate in grandissime quantità e hanno valori molto contenuti e altre monete che sono state coniate in quantità minori e hanno delle equazioni di mercato un po' superiori. Poi ci sono delle variazioni di conio che adesso andremo a vedere dove le monete potrebbero raggiungere dei valori interessanti. Quindi io ho preparato il mio bigliettino, adesso togliamo lo zoom e ve lo faccio vedere con calma. Tu potrai mettere il video in pausa e andare a controllare quelle che sono le monete che hai a casa. Eccoci qui, allora ti ricordo che tutte le quotazioni che trovi qui si intendono, e anche nella facciata successiva, sono da considerarsi per le monete perfette o meglio per le 200 lire FDC, quindi Fior di Conio. Se le monete sono circolate, dimenticati queste cifre, perché assolutamente le monete circolate non hanno queste quotazioni. Nella maggior parte dei casi le monete circolate non valgono nulla. Partiamo dall'anno 1977. Io ricordo che quando ero piccolino, sui vari giornali di compro e vendo, diciamo, c'erano tantissime monete in vendita del 1977, proprio perché erano considerate monete che valevano tanti soldi. Allora, c'è da dire, c'è da fare una piccola precisazione. L'unica moneta del 1977 che ha valore davvero, perché quella normale del 1977 in Fior di Conio vale 2 euro, se è circolata non vale assolutamente nulla, quindi quella che vale è quella di prova, che a differenza della normale 200 lire classica, diciamo, che qui avrebbe l'anno 1977, sotto, in basso, a destra, proprio qui in questo punto, presenta la scritta prova. Quindi se la tua moneta è del 1977 e non è presente la scritta prova, il suo valore non è sicuramente questo, ma è questo. Se invece è circolata non vale addirittura nulla. Quindi la moneta di prova può valere fino a 750 euro. Anno 1978. La moneta normale vale 2 euro. Perché ho scritto normale? Perché esistono due varianti riconosciute, diciamo. Esiste la versione classica, quindi, che ha un valore massimo di 2 euro. Quella dove c'è una mezzaluna sotto il collo. Cosa significa? Significa che in questa parte qui, quindi sotto il collo, c'è un errore che è stato fatto durante il processo di coniazione. Cerchiamo di parlare in questo modo abbastanza semplice per farlo capire a tutti. Dove c'è un eccesso di metallo che è andato a creare una sorta di piccola mezzaluna aggiuntiva sotto al collo. Quindi, in quel caso, la moneta del 1978 può valere davvero questa cifra. Quindi, in fior di conio, fino a 140 euro. Questa moneta, logicamente, se è circolata, può comunque avere un buon valore. Non sarà questo, ma sarà molto più basso. Esiste poi, sempre del 1978, la moneta con l'asse ruotato di 180 gradi. Quindi, piuttosto che ruotarsi in questa maniera, quando la ruotiamo, l'altro verso si trova a 180 gradi. Poi, 1979. Anche qui abbiamo la versione normale, 2 euro. Poi abbiamo la versione dove manca la firma dell'incisore, o meglio, quella che è qui in basso, che ti ho fatto vedere prima. Ecco la firma dell'incisore. Qui si vede bene M, pallucci. Se manca la firma dell'incisore, la moneta può arrivare a valere fino a 50 euro. Esiste poi, sempre del 1979, una versione dove c'è la testa pelata. Quotazione di mercato può arrivare fino a 100 euro. Cos'è la testa pelata? Vedi i capelli dove sono? Ecco, nella versione testa pelata, sempre per una sorta di errore di conio, chiamiamolo così per semplificare, ripeto sempre, i capelli, l'attaccatura dei capelli, inizia molto più indietro. E sembra che la testa sia pelata. E quindi, da qui il nome e le quotazioni di mercato. Questa è molto ricercata, ragazzi. Fino a 100 euro. 1982, massimo 5 euro. 83, 84, 85, 86 vale al massimo 3 euro. E poi, 1980, 81, 87, 88, 91, 95 e 98 valgono 1, 2 euro al massimo. Quindi, sono quelle più comuni, diciamo, quelle più facili da trovare. E anche il fior di conio raggiungono delle cifre molto irrisorie. Poi, per quello che riguarda l'anno 2000-2001, queste monete non sono state messe in circolazione. Sono state coniate solo per i divisionali, quindi solo per i collezionisti. Se vengono vendute all'interno del divisionale, logicamente il valore sarà quello della quotazione di mercato del divisionale. Se invece vengono vendute separatamente, quindi senza il divisionale, ma la singola moneta, perché c'è chi taglia il divisionale e vende poi le monete singolarmente, in quel caso queste monete vagano 7-8 euro ciascuna. Quindi, ragazzi, spero di aver fatto chiarezza. Se hai dubbi, puoi scriverlo tranquillamente tra i commenti. Se vuoi approfondire l'argomento, vuoi capire meglio qual è il valore di una moneta che hai conservato, che hai ritrovato da poco, puoi scriverlo benissimo tra i commenti. Puoi anche, semplicemente, scrivere un grazie o un ciao e io ne sarò molto molto felice di leggervi e anche di rispondervi. Non mi resta che augurarvi buon collezionismo. Un saluto a tutti. Ciao! Ah, dimenticavo, ragazzi, mettete tanti mi piace e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao!